Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Per il campionato di Serie D si scende in campo per la sesta d'andata. Vediamo le partite nel girone F. Amiternina Fano, Avezzano Fermana, Chieti Castelfidardo, Folgore Giulianova, Iesina Pesaro, Olimpia Agnonese, Isernia, Recanatese Matelica, San Benedettese Monticelli, San Nicolò Campobasso. Il Campobasso a Teramo per il riscatto contro il San Nicolò torna a piena disposizione Dimas. Dalla rifinitura svolta stamane al Vita Antonio di Ripalimosani è contraddistinta pure da un bel sole autunnale. Abbiamo potuto evincere che il tecnico rosso blu Cappellacci ha un paio di dubbi di formazione. Il primo riguarda la linea mediana laddove è in atto un ballottaggio tra Boldrini e Bontà, quest'ultimo mai chiamato in causa dal primo minuto. A sinistra invece il duello per una maglietta dal primo minuto esiste tra Todino e Dimas ma il brasiliano sembra essere avvantaggiato rispetto al secondo nell'undici di partenza. Gattari e Ferrani a parte non si registrano altre defezioni nel gruppo rosso blu fortemente desideroso di riscatto. Dopo la sonora sconfitta interna contro il Chieti proviamo allora ad abbozzare una presumibile formazione anti San Nicolò. Capuano sarà a guardia dei pali, Fusario e Di Pasquale al centro, a sinistra ipotizziamo una conferma per Rao, a destra potrebbe essere il turno di Lenoci dal primo minuto. Cappellacci sembrerebbe essere orientato a schierare il campo basso secondo i dettami di un 4-3-2-1 nel quale gli esterni d'attacco dovranno essere bravi ad allargare la difesa del San Nicolò nel comparto mediano. Tira area di conferma per Censori e Valentini mentre potrebbe essere data la prima chance della stagione a bontà, giocatore abile a macinare chilometri e a recuperare palloni. Sulle corsie laterali Fiore a destra e Dimas a sinistra collaboreranno con l'unica punta Bucchi. Almeno questo si può desumere dalla rifinitura svolta prima della partenza alla volta di Teramo. Per il campo basso urge la vittoria come unico risultato possibile dal campo del Bonolis incontrata piano d'accio. Per la squadra di Epifani non esiste la stessa stringente necessità che hanno i rosso-blu, dunque anche un pareggio potrebbe essere accolto con il sorriso sulle labbra. La cabala va chiamata raccolta. Il San Nicolò infatti ricorda per lo scorso anno al campo basso sei punti presi in campionato tra gironi di andata e quello di ritorno, ma pure una sconfitta abbastanza corposa nelle dimensioni. Nel primo turno play-off giocatosi nello scorso mese di maggio. A Selvapiana vinsero i Teramani per 3-0 togliendo dai giochi play-off i rosso-blu allora allenati da Vullo. Rispetto alla scorsa stagione il San Nicolò ha perso l'attaccante Armando Iaboni, accasatosi a Lavastese. Nel tabellino degli abruzzesi permane 1-0 nel posto delle vittorie interne. L'unico successo dei Teramani è arrivato domenica scorsa al Del Duca di Ascoli contro il Monticelli. Il campo basso ci terrà quindi a conservare lo 0 nella casella delle vittorie interne del San Nicolò. A dirigere la partita di domani tra gli abruzzesi ed il campo basso, a partire dalle ore 15, è stato designato il signor Bertolino della sezione di Terni. A proposito della squadra rosso-blu abbiamo fatto il punto della situazione con Boldrini. C'è stato un confronto all'interno del gruppo subito dopo la scoppola contro il Chieti? Sì, da martedì siamo messi nello spogliatoio, abbiamo parlato col mister, abbiamo analizzato i problemi che ci sono stati con la partita perché sicuramente ci sono stati. I problemi ci sono stati e qual è l'atteggiamento più che altro al vostro morale adesso? Immagino non vediate l'ora di giocare la prossima partita contro questo San Nicolò. Che avversario ritenete possa essere domenica a Teramo? Il nostro morale sicuramente dopo un 4-0 casalingo è basso ma nel calcio come nella vita quando succedono delle sconfitte bisogna alzare subito la testa perché è la cosa migliore, la medicina migliore per andare avanti. Siamo carichi e non vediamo l'ora di affrontare la partita di domenica per riscattarci. Il tuo vero ruolo mezzala o esterno? Ho fatto sempre tutti e due ruoli, dipende poi dagli allenatori come mi vedono e come preferiscono farmi giocare. Io mezzala l'ho sempre fatto, insomma non è un problema. Il campionato è lungo, i punti in paglio sono tanti. Al Civitelle di Agnone sarà derby tra i locali e l'Isernia, entrambe reduci dal turno preliminare di Coppa Italia. Domani la sesta giornata di andata riserva il primo derby stagionale per due delle tre molisane del Girone F. Al Civitelle i padroni di casa ospiteranno l'Isernia. Le due compagini sono reduci dal turno preliminare di Coppa Italia, giocato mercoledì e vinto da entrambe per 6 a 5 dagli 11 metri. L'Isernia contro l'Isola Liri, l'Olimpia agnonese contro il Torreguso. Tour de Force dunque per le due molisane, che domani saranno di nuovo in campo per un match impegnativo. I derby, si sa, sono le gare più sentite. Reduci dal pareggio di fermo, arrivato proprio allo scadere, i Granata sono alla ricerca del riscatto. Per quanto riguarda la formazione, sono previste delle variazioni a seguito dell'infortunio rimediato dall'underguida. Dal canto suo, l'Isernia sta attraversando un periodo più che positivo. I bianco-celesti condividono il secondo posto in classifica a quota 10 punti con il Monticelli ed hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi. C'è grande fermento nei due comuni molisani per il primo derby stagionale. Anche per domani, mister De Bellis avrà a disposizione tutti i suoi uomini, ad eccezione di Tuccia, che nella gara di mercoledì ha rimediato una frattura al setto nasale. Il tecnico non dovrebbe allontanarsi dall'undici che la settimana scorsa ha superato 2 a 1 la Folgore Veregra. Il modulo sarà sempre lo stesso, 4-2-3-1. Maggi tra i pali, davanti al numero 1 agiranno La Torre, Pepe, Ruggeri e Santoro. Centrocampo affidato a Saltarin, Simonetti, Fontana e Scimò. Attacco composto da Mascolo e Capitan Panico, già a quota 5 reti. Rientrerà anche il centrocampista Rega, che ha scontato le due giornate di squalifica. I 90 minuti del derby del Civitelle saranno diretti da Daniele De Santis, della sezione di Lecce, coadiuvato da Marco Capolupo e Pasquale Martinelli, entrambi di Matera. Calcio giovanile questo pomeriggio in campo per la terza andata del torneo Juniores nazionale a Mirabello. Il campo basso ospiterà l'Olimpia agnonese. Match in trasferta per l'Isernia con il Giulianova, squadre in campo da questo fine settimana alle 15.30. Oggi pomeriggio alle 17.30 appuntamento al campo Acli di Selva Piana per il primo Memorial Giovanni Delia in campo le Acli Rugby Campo Basso, la Fragola Rugby e il Cus Foggia in un triangolare per ricordare il fotografo scomparso lo scorso anno. Un appuntamento immancabile per gli amanti della palla ovale in attesa dell'inizio del campionato di C2 al quale le Acli Campo Basso sono iscritte. Basket, seconda giornata del torneo di divisione nazionale B, Isernia a Roma, Venafro in casa. Riscatto. Questa è la parola d'ordine in casa Globo Isernia e All Discount Venafro dopo la sconvitta al debutto nel girone C di Serie B rispettivamente contro Viterbo e Scauri. Ma andiamo con ordine. Il Globo Isernia dopo la beffa interna contro Viterbo che le ha visti uscire sconvitti di tre punti viaggiano alla volta della capitale dove saranno di scena sul parche della Luis Roma anch'essa sconvitta al debutto con un sonoro 83-56 dalla Givova Napoli. In casa di Siennina c'è grande voglia di riscatto e un successo intera rasiale darebbe d'usiasmo al team allenato da coach cardinale. I pendri punteranno molto sulla difesa e sui punti di Gagliardi, Gentili e Patani. Passiamo al Venafro. Il meno 54 patito a Scauri fa ancora male. Bisogna metterlo alle spalle. E quale occasione migliore se non la partita interna contro il Mastria Vending Catanzaro diretta concorrente alla salvezza e che vengono dalla pesante sconvitta interna per 90-50 contro Euro BK Roma. Due punti che varrebbero doppio davanti a un palazzetto che si preannuncia pieno e pronto ad incitare i venafrani che verranno guidati dal Play Brusello e dalle guardiali Minchella e Chiari. Non resta che aspettare la palla a due di questa seconda giornata e godersi lo spettacolo che solo la palla a spicchi sa offrire. In Cisilver oggi alle 18.00 al Palapazzieri l'NBC ospiterà la nuova Campi. Domani trasferta a Teramo per il Termoli. Calcio regionale, campionato d'eccellenza, si gioca la sesta d'andata. Campobasso 19 Termoli, Vairano Sesto Campano, Gioventù Dauna, Pietra Montecorvino, Gambatesa, Casalnuovo, Roccaravindola Macchia, Treppini, Montenero, Vasto Girardi, Alife, Venafro Cliternina riposa il Riccia. Sono tre gli anticipi di questo pomeriggio. Vairano Sesto Campano, Campobasso 19 Termoli e Venafro Cliternina. Il quadro si chiude domani. Il derby pugliese, Gioventù Dauna, Pietra Montecorvino mette in palio punti pesanti. Quinta giornata del campionato di eccellenza del Molise. Al comunale di Monterotaro, derby tra la Polisportiva Dauna e il Pietra Montecorvino. Un incontro attesissimo tra le due fuori regione che si distanziano di soli tre punti. Arbitro di gara Barbiero, assistenti Viotti e Bonavita. Al venditti di Gambatesa affronterà il Casalnuovo Monterotaro. Entrambe le squadre a quattro punti in classifica cercano l'ottenimento dei tre punti per raggiungere la zona salvezza. Giudice di gara Romei, quadiuvato da Iocca e Martino. Al Castaldi, il Rocca Ravindola, forte dei suoi dieci punti in classifica, cercherà di affermare nelle mura di casa la sua supremazia su un macchia fermo a sei punti. Vasile a giudicare la regolarità della gara con gli assistenti De Gregorio e Bottiglia. Il Treppini, alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta riportata col Pietra Montecorvino, ospita il Real Montenero, sconfitto sì anch'esso nella scorsa giornata, ma che occupa un buon posizionamento in classifica. Ma è al Ditella che si verificherà uno dei match più tossi della giornata tra il Vasto Girardi e la Life. Entrambe le squadre, in vetta alla classifica, cercheranno punti da portare a casa. Arbitro da Scanio, quadiuvato da Farina e Gentile, riposa l'Olimpia Riccia. Campionato di promozione, anche qui si gioca la sesta da andata. Baranello, Ielzi, Cerce Maggiore Matese, Guglionesi, Santeliana, Petacciato Campodipietra, Real Prata, Frentania, San Martino, Castelmauro, Rocca Sicura, Roseto, Torremagliano, Spinete, riposa il Carullo. Turno diviso a metà, quattro le gare di oggi pomeriggio, Petacciato Campodipietra, Real Prata, Frentania, derby fra San Martino e Castelmauro, per finire si gioca Torremagliano-Spinete. Il quadro si chiude domani, il Cerce alla ricerca del riscatto con il Matese, fare i puntati anche su Baranello, Ielzi. Saranno quattro le gare che completeranno il programma della sesta giornata del campionato regionale di promozione. Il Rocca Sicura, spodestato in vetta dal Campodipietra dopo lo scivolone di Ielzi in settimana, cerca il riscatto con un Roseto che ha conquistato un solo punto nelle ultime due partite. Chi vince si rilancia nei quartieri nobili. Arbitro della gare il signor Saluppo di Campobasso, assistito da Donofrio di Termoli e Sassani di Campobasso. Obiettivo pressoché identico anche per Lupetti, Guionese e Santeliana, che vengono da risultati non proprio positivi. Bassomolisani sconfitti dal Campodipietra e Fortorini bloccati in casa dal Real Prata. I tre punti ridarebbero ossigeno alle ambizioni di primato di entrambe. Arbitro del match il signor Salanitro di Campobasso, assistito da Gualtieri di Campobasso e Caia di Termoli. La Boise Ielzi Metal Zilembo, dopo una partenza sfortunata ma da incubo con due sconfitte di fila, ha infilato due successi consecutivi. L'ultimo è Spulac con l'ex capolista Rocca Sicura, che l'hanno catapultata in terza posizione a tre punti dalla vetta, anche grazie al 3-0 a tavolino, assegnato nella gara inaugurale persa sul campo con il Torre Magliano. Fa vista ad un baranello reduce dal K.O. con l'FVP Matese, dopo i successi consecutivi con Cerce Maggiore e Carullo. Difficile sbilanciarsi con il pronostico nel confronto tra due delle squadre più in forma del momento, che sarà diretto dal signor Vasile di Sernia, assistito da Nacchene di Sernia e Marinelli di Campobasso. Infine, il Cerce Maggiore vuole tornare a successo davanti al pubblico amico, dopo la rocambolesca sconfitta per 4-3 in casa del Carullo, a spese di una FVP Matese, rinfrancata dal successo con il baranello. Compito non semplice per Stefano Zullo e compagni, ma non certo improbo. Arbitro del confronto, D'Andrea di Campobasso, assistito da Mainolfi e Verrino della stessa sezione. Muntan Bike, domani appuntamento con il primo trofeo cittadino Città di Termoli, gara ciclistica sul circuito cittadino, valida come campionato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, aperto a tutti gli altri enti, organizzata dalla Termoli Bike alle 10.30 alla partenza della gara. Inoltre, sempre domani a Filignano, in programma la seconda edizione del Mainhard Bike Race, il percorso di 46 km si snoderà interamente nel comune di Filignano. Prendono il via questo fine settimana anche i campionati di prima e seconda categoria. Prima categoria, girone A, Carovilli-Vulcania, Carpinone-Pesche, Donche-Sagnone-Atletic-Mignano, Fortitudo-Cerri, San Pietro-Avellana, Forulum-Rocchetta, Sestolese-Rufre-Presenzano, Fornelli-Aurora-Pizzone, Riposa-Il-Pozzilli. Girone B, Acli-Campo-Basso, Fiamma-Folgore, Alberona-Macchia-Valfortore, Celenzia-Volturino, Giovani-Morcone-Real-Gildone, Mirabello-Calcio-San Marco-Lacatola, Molise-Quartiere-Campo-Basso-Nord, Real-Roseto-Altilia-Samnium-Riposa-San-Bartolle-Ana. Boiano-Campomarino, Fiamma-Larino-Ururi-Calcio, Fossaltese-Isola-Croata, Maronea-Atletico-Limosano, Quattro-Torri-Ripa-Limosani, Trearchi-Portocannone-Trivento-Angioina-Colletorto. Questo era il girone C. Scendiamo in seconda. Categoria Castel di Sangro-Longano-Fossa-Cieca-Ala-Fidelis, Gioventù-Macchiagodena-Sporting-La Pietra-Masserie-La Corte-Monteroduni-Montenero-Valleagricola-Niucales-Nuova-Rionero-Real-Carceres-Miranda-FC-Girone-A. Passiamo al girone B. Chiauci-Mafalda-Ferrazzano-Castro-Pignano-Rocca-Vivara-Torella-Del-Sagno-Sant'Angelo-La Seconda-Baranello-Salcito-Moundimitar-Sepino-Bagnolese-Sporting-Torella-Atletico-San Pietro-Invalle-Riposa-Oratino. Nel girone C. Audax-Toro-Montagano-Petrella-Campo-Basso-Calcio-Casali-Dauni-Matrice-Gruppo-GSM-Polisportiva-Calena-San Giovanni-Ingaldo-Real-Gamba-Tesa-Guardia-Alfiera-Reds-Campolieto-Sant'Angelo-Limosano-Ripa-Bottoni-Riposa-Il-Munxu-Funi. Grazie a tutti. a partire dalle ore 22. Bene è tutto, buon fine settimana.